Signore e signori, benvenuti al circo dove i sogni prendono vita, dove l'immaginazione incontra la magia e la fantasia si trasforma in realtà. Bambine e bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus. Bambini, è il momento di divertirsi con il One Man Circus.